Ciao a tutti ragazzi, qui è Archievi Parla, torniamo di nuovo a parlare di Call of Duty Mobile perché finalmente è uscita la mappa zombie di, non so se dire, questa season o la season dopo, quindi Nascete Run Totem che era prevista per la terza season che è praticamente conclusa, infatti mi sa che tra tipo 3-4 giorni o simili dovrebbe partire la quarta. È arrivata la mappa, è arrivato anche Nicolai mi pare come personaggio giocabile su zombie o comunque sbloccabile e utilizzabile, ma c'è sicuramente un problema che io in parte avevo previsto, se ne era comunque parlato molto tempo fa, ovvero zombie sta comunque anche per essere rimosso proprio dal gioco di Call of Duty Mobile come modalità a tempo limitato. Poi ci sono ancora 22 o 23 giorni o qualcosa del genere, dopodiché la modalità verrà tolta interamente dal gioco. Ho visto che ne stavano molto parlando su Reddit perché a riguardo un ragazzo aveva detto finalmente è uscita la mappa e subito dopo qualcuno ha detto ma come, c'è adesso un timer, sta per essere rimosso e ho quindi recuperato quello che è il community update di Call of Duty Mobile del 29 febbraio, scorrendo giù dopo tutti gli argomenti di multigiocatore e Battle Royale, c'è un piccolo pezzettino per Zombies Mod. Quindi loro dicono, una domanda che avviene molto spesso è, cosa succederà alla normalità zombie con questi update? Beh, la cosa più importante da pensare è che zombie verrà rimosso il 25 di marzo, quindi circa, sì, 22-23 giorni, non so quando sia più o meno il reset o l'orario specifico e comunque loro ci dicono che hanno sempre detto che sarebbe stata rimossa, sarebbe stata a tempo limitato, ma mai con una data precisa o esplicita. A riguardo comunque stanno raccogliendo tutto il feedback e per adesso è uscita soltanto Natch the Rantotten come seconda mappa che possiamo quindi interamente adesso giocare. Per quanto riguarda la probabilità stessa, ho detto che più avanti verrà riportata comunque indietro o c'è la possibilità di poterla rivedere, specialmente con Natch the Rantotten, ma per adesso stanno pensando più che altro a farla, diciamo, come modalità di qualità molto alta e che adesso si stanno concentrando molto di più sullo sviluppo di molti giocatori, Battle Royale e le partite classificate. Per riassumirlo comunque molto in fretta, secondo me, come dobbiamo vedere questo discorso, zombie è sicuramente una parte molto minoritaria di Call of Duty Mobile, ancora più piccola di quanto possa essere considerata su un Black Ops, che sia un Black Ops 1, 2, 3 o 4, lì zombie attrae molti più giocatori, una parte più grande della community e c'è secondo me più possibilità di microtransazioni addirittura nel gioco a pagamento rispetto a modalità gratis, classica, di Call of Duty Mobile. Quindi penso, ci stanno andando a modalità zombie ancora per circa 3 settimane con questa mappa molto molto in ritardo, dopodiché verrà tutto quanto rimosso. Lo rivedremo in futuro, c'è questa possibilità che viene detta e ha detto che ci stanno lavorando per fare la qualità molto alta, ma quello che io penso personalmente, quindi prendete le mie argomentazioni o comunque il mio pensiero con le pinze e che forse non lo rivedremo o lo rivedremo tra molto molto tempo. Siamo d'accordo che molti giocatori, Battle Royale, adesso anche le classificate con le season e tutto il resto, sono sicuramente l'attenzione centrale per quanto riguarda lo sviluppo o comunque tutto quello che è il supporto per quanto riguarda questo Call of Duty Mobile. Tutti giocano molti giocatori, Battle Royale, le classificate, tutti giocano questa modalità PvP e molto meno una specie di PvE come zombie con alcune mappe leggermente modificate come era questa versione leggermente allargata di Natch con alcune armi per zombie, i perk, il pack-a-punch alcuni potenziamenti qua e là, poter giocare in squadra le incursioni in cui uccidere un boss quelle sottospecie di missioni con alla fine una boss fight tutte queste piccole cose che sono soltanto qualcosa di unico di zombie che può appunto prendere da parte alcuni sviluppatori e occupare il loro tempo per qualcosa che poche persone giocano molte persone magari non sono contentissime perché lo sviluppo, comunque la modalità stessa non è neanche lontanamente simile a quella che c'è su console o su PC ed è lo zombie classico, nonostante ci sia quella specie di sopravvivenza, anche se limitata dal tempo e dagli zombie molto, molto forti quindi c'è sicuramente un problema dal punto di vista del dove vogliamo mettere le nostre risorse vogliamo metterle su zombie che fa pochissimo successo probabilmente pochissimi soldi e si ottengono piuttosto soltanto lamentele perché è difficile paragonare l'esperienza che si può avere su un gioco che chiaramente è pagamento come un Black Ops 3 per dire che però si può recuperare con pochi soldi contro quello che c'è gratis su mobile che è giusto qualcosa di vagamente simile a zombie ma non estremamente divertente o con la stessa profondità quindi penso piuttosto che si stiano concentrando molto di più su molti giocatori, battle royale e classificate e in seguito se in rimarrà tempo rimarranno personale adatto a fare questo tipo di lavoro in più si dedicheranno un pochino di tempo a zombie adatto tutto il tempo che ci è voluto per avere soltanto Natch che come mappa anche leggermente allargata è minuscola e alcune piccole aggiunte come il pack a punch qualche altra arma emimetica sinceramente non penso che vedremo zombie molto presto come grande ritorno su Call of Duty Mobile con tutti questi cambiamenti anche perché dicono tornerà forse zombie però sempre con Natch quindi non so quale sarà questo cambiamento incredibile che potremo vedere con mesi e mesi di anticipo o comunque mesi e mesi di attesa per quanto riguarda avere qualcosa di veramente alta qualità ritengo personalmente improbabile magari invece ci stanno lavorando davvero tantissimo avremo un ritorno gigantesco gigantesco con tante mappe, tanti cambiamenti e tutto fatto molto bene sicuramente lo spero però personalmente anche io ho smesso di giocare a zombie per mobile perché non lo ritenevo divertente era comunque molto limitato e piuttosto personalmente possedendo tutti i capitoli di zombie in assoluto anche quelli non Black Ops come World War 2, Infinite Warfare, Exo Zombie The Advanced Warfare posso permettermi di accendere la console e piuttosto farmi una partita anche di mezz'ora su città su Kino di Black Ops 3, su Kino di Black Ops 1 una 5, una Ascension, addirittura una Dead Ops Arcade con veramente il minimo sforzo chiaro che comunque stiamo parlando di me che sono piuttosto un veterano comunque possiedo appunto tutti i giochi ma chiunque sia anche soltanto vagamente appassionato di zombie possederà non lo so un Black Ops 1, un Black Ops 2 un Black Ops 3 o simili e penso sia molto più comodo e divertente avviare il gioco anche solo per 20 minuti, mezz'ora partendo dal 20 su città dal 20 su deposito o simili farsi anche una partita a dolore con gli amici anche se ovviamente dobbiamo essere per forza seduti alla console o al PC giocare quando siamo in giro non penso che sia il momento perfetto per giocare a zombie ma piuttosto appunto farsi una partita veloce sul multi simile Battle Royale o appunto una classificata se siamo più concentrati e in generale possiamo giocare tranquillamente al telefono piuttosto che a zombie dove secondo me per partite magari più serie ci voglia più concentrazione e attenzione e non sia proprio il massimo giocare su un mobile che sia un telefono, un tablet o simili in conclusione posso dire che questa specie di secondo me lo vorrei chiamare esperimento che c'è stato per zombie su mobile non so se sia stata l'idea migliore ben visto quello che era possibile creare con queste modalità sicuramente le alpha e beta risultavano molto più interessanti sicuramente sulla carta vedere queste boss fight queste piccole missioni ma alla fine noi vogliamo vedere la sopravvivenza classica e vederla limitata da circa 3 ore o era 2 ore e 40 non mi ricordo mai il tempo preciso e ovviamente gli zombie molto resistenti quindi nessun round veramente incredibile poi in più comunque meccanismi di microtransazioni sempre presenti in un gioco come COD Mobile non siamo stati proprio il massimo ed è chiaro che zombie abbia il suo posto molto di più su un'esperienza come la chiamano loro premium di un COD che esce ogni anno per dire un Black Ops o simili che abbia la sua modalità zombie le sue mappe la sua storia gli easter egg le wonder weapon e tutto fatto come si deve e ha molto più senso acquistarsi una console un pc e i giochi piuttosto che voler provare zombie su mobile che ci può stare in più se qualcuno ha soltanto quello non ha intenzione di spendere neanche un soldo preso uno anche soltanto vagamente interessato a zombie o un appassionato è molto più probabile che possieda già una console un pc e almeno un capitolo o di Black Ops o di qualunque altro gioco di COD che abbia almeno zombie voglio sapere però ovviamente ragazzi le vostre opinioni se secondo voi magari in futuro potremo rivedere zombie fatto come si deve anche su mobile ditemi se proverete anche la mappa an'accedere a un totem uscita con questa inizio quasi della season 4 e cosa ne pensate del fatto che sia una modalità a tempo limitato avevo fatto un video a riguardo diverso tempo fa perché loro l'hanno sicuramente annunciato molto in anticipo io pensavo prima o poi lo toglieranno e non sappiamo se verrà poi rimesso in futuro loro dicono che c'è comunque la possibilità e la probabilità che venga fatto specialmente se c'è anche moltissima richiesta avevamo detto in passato però comunque se devono lavorarci come si dite come dicono loro però sono molto più interessati e concentrati su multigiocatori battle royale classificate e il supporto molto più intenso per queste modalità quindi eventi metiche armi e tutte queste cose è chiaro che zombie passi non in secondo ma addirittura in terzo o in quarto piano quindi a lavorarci non ci sarà praticamente nessuno se non trà diverso tempo spero come sempre ragazzi che vi oggi sia piaciuto vi invito nel caso a lasciare un mi piace a seguirmi anche su instagram e twitch e noi ci vediamo come al solito ad un prossimo video un abbraccio ala